Anticipazioni Beautiful Venerdì 30 ottobre 2020 Ridge, Brooke, Liam e Hop continuano a discutere sull'incidente. Hop difende la madre. Thomas non voleva lasciarla andare, da lontano stava dando un'impressione diversa. Ecco perché la donna è intervenuta. Dopo un po' ecco che arriva il dottore pronto a rivelare lo stato di salute del paziente. Dice che Thomas presenta un grave edema cerebrale e forse sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Ridge è disperato, chiede di poterlo vedere e il medico ha consente. Liam e Hop rimasti fuori con Brooke cercano di tranquillizzarla. La Logan si dispera, dice di aver commesso qualcosa di tremendo e non se ne capacita. Hop crede che non debba sentirsi colpevole in quanto non ha agito con l'intento di fare volontariamente del male al ragazzo. Presto anche Ridge lo capirà. Brooke lo spera, ma se Thomas non dovesse riprendersi mai più, il suo matrimonio può considerarsi giunto al capolinea. Ridge nel frattempo è nella camera di Thomas. Si siede accanto e lo osserva. Dice di aver saputo che ha provato a scusarsi con la Logan per gli errori che ha commesso e questo gli fa grande onore. Aggiunge che non ha ancora informato Taylor e Steffi dell'accaduto. Tutti non aspettano altro che il suo risveglio. E poi gli fa una promessa. Appena si riprenderà, lo aiuterà a rifare breccia nel cuore di Hop. Adesso ha capito che i suoi sentimenti per lei sono stati sempre sinceri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.